Non lo so, adesso andrà un pochino arriva dentro il canto della pubblicazione. Allora, c'è lì 2D, ok. Quindi ci mancano... Vabbè, scuola, tu fio? Eh? Un appello con gli insegnanti di Cecconi, però, però... Viola? No, vedi, ora c'era Andrea la maglietta gialla. La gialla dove è? C'era la tuta dalla vigore, è il quarto, quello vicino al palo del... Ah, caca, l'ho visto, ho visto, sì, 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 qui. C'è l'altra, ma vedi? E' di Miami, se è qui, tu, gialla. Sì, sì. No, adesso qua è gialla, ho visto. Allora, puoi vincere, anche poi? Ok. Sì, ma tu non sai fare il must, tu sai fare la minuccia. La minuccia? Eh, perché loro non hanno partecipato. Mi manca ancora via me o concierto? Ciao, Anna, buongiorno, sono Antonio. Mass. Eh, Annarella, è un po' difficile vederci, perché io ora vado sotto intervento, quindi... o vieni vicino a casa mia o sennò è difficile. Forse oggi, per turno e mezza, vado a Via Portoense. Magari lungo il tragitto vi posso chiamare, se mi avvicino e ci vediamo. Un po'. 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 Quanta se non mi gaccio, non la signora, non c'è acqua. Grazie.